ah non lo toccare perché buschi te lo mangio quando te lo dico io bravo a totò non si tocca finché non te lo dico io va bene bravo a totò dai te lo puoi prendere dai prendilo totò prendilo sto organizzando una spedizione in un monastero sulle cime dell'imalaya mi serve un gioco pesante ascolta anche a me manca vendere almeno quanto manca team